Colonnello, lei è presidente dell'osservatorio ambientale, le chiedo, crede sia doveroso che ogni comune, in particolare in Campania, si doti di un osservatorio permanente, uno strumento di vigilanza, denunce, magari promotore di iniziative, però col fine di istituire una rete di collaborazione tra i vari organismi regionali che ogni comune si doti di un osservatorio per poter collaborare con gli altri. Io credo che possa essere opportuno una rete del genere, perché così almeno si evita quella trasmigrazione verso altri posti dove esistendo un osservatorio in una certa zona, in una località, magari qualche criminale si può spostare dall'altra parte, se gli osservatori sono dappertutto. E magari collaborano tra di loro. Certo, devono avere una rete di circolazione delle informazioni e una banca dati sicura per poter essere accessibile a tutti, per poter avere gli eventi e il monitoraggio del territorio. Crede sia possibile istituire un comando regionale che coordini gli organismi comunali? Potrebbe già essere la Prefettura stessa che sta lavorando in tal modo, a livello provinciale e a livello anche regionale. Volendo si può realizzare qualsiasi cosa. Che soluzioni, quali possibili soluzioni può intravedere lei da questo punto di vista il futuro prossimo? Ma io spero che questo esempio si possa replicare in tante altre realtà, sia comunali sia provinciali, in modo tale da poter avere veramente un'estensione di osservatori che rendano la vita difficile a coloro i quali vogliono danneggiare il territorio.